Su tutti gli autobus recentemente inseriti nella flotta urbana ed extraurbana è presente un sistema di videosorveglianza digitale per monitorare quanto accade a bordo. Comincia così un comunicato a firma di Massimiliano Dindalini, presidente di TM, dopo la notizia di un controllore aggredito. Il fatto è accaduto nel pomeriggio del 21 luglio scorso sull'autobus Arezzo Bettolle all'altezza di Olmo. Il controllore ha multato un passeggero di 25 anni di origini straniere che non aveva il biglietto e lui per tutta risposta gli ha sferrato un pugno. Portoghesi dunque termine usato per chi viaggia a scrocco e persino violenti. Sugli autobus del parco urbano, precisa Dindalini, la postazione dell'autista è protetta da un'apposita cabina per garantire la sicurezza alla guida e prevenire eventuali tentativi di aggressione. C'è poi stretta collaborazione con le forze dell'ordine attraverso una cabina di regia finalizzata alla pronta gestione dei casi più problematici.